Sono Andrea Lì, sono il team manager di Euro Ansa Roma 1, che è il primo ufficio che abbiamo installato su Roma, sono in Euro Ansa dal 2013, sono il primo straniero, oltre alla Toscana, a essere presente in Euro Ansa. Oggi sono appunto il team manager di Euro Ansa Roma 1, con uno staff di 40 collaboratori. L'inizio del percorso è stato veramente difficile, chiaramente l'azienda era composta da 50-60 collaboratori e non avevamo il peso nelle banche che abbiamo attualmente. Abbiamo fatto un lavoro capillare, abbiamo lavorato tanto sia in termini di tempo che in termini di energie e abbiamo costruito tutto il percorso che è quello attuale di Euro Ansa sui valori della trasparenza, della correttezza, differenziandoci dal mercato che c'è ancora tuttora, specialmente nelle grandi città come Roma. Siamo sempre rimasti puliti, disponibili, abbiamo fatto capire che all'interno del mestiere del mediatore c'era un contenuto veramente importante, che non era quello del passacarte, come veniva visto un po' negli anni precedenti. Abbiamo instaurato rapporti consolidati nelle banche, aumentando fortunatamente sia di numero che di fatturato e derogato negli anni, andando a prendere una fetta di mercato sempre più grande. Io sono entrato in una famiglia, ho rapporti talmente di fiducia, talmente diciamo ormai di amicizia con i soci e con tutti i collaboratori più anziani che ci sono in Euro Ansa. Mi ricordo quando andavamo a fare le consulenze insieme a Mario Monzo, che oggi è il direttore generale, veniva con me ad ascoltare i clienti, prendevamo gli incarichi insieme e andavamo a presentare le pratiche in Crédit Agricole, in BNL e eravamo io e lui, al quale poi piano piano ho aggiunto collaboratori, fino all'intervento anche di Maurizio Molinelli, che è un personaggio importantissimo per noi in questo momento su Roma e ad oggi siamo più di 200 collaboratori con grande orgoglio. Io già ero presente in un'altra rete, che ad oggi è ancora una delle più importanti in Italia, con più di 700 collaboratori, quindi ho concluso il mio iter in modo un po' difficoltoso, diciamo, non andando molto d'accordo e mi sono ritrovato a fare il colloquio nella vecchia sede di Capannoli con Mario e ho firmato il contratto di collaborazione il giorno stesso, è stato amore a prima vista, ci siamo trovati entrambi immediatamente d'accordo su quello che dovevamo fare, soprattutto sono un amante delle grandi sfide, ogni tanto scherzo e dico ad Anzano vendiamo la rete, rifacciamola da capo, perché il viaggio più bello è stato quello per arrivare fino ad ora, col coronamento delle Stock Grant, che è stato il grande regalo che ci ha fatto la società. L'evoluzione ha avuto un primo sprint all'inizio in cui sono entrati un po' di collaboratori, tanti sono ancora con me, la maggior parte sono ancora con me, ci sono state un po' di uscite nel tempo per diversi motivi, sia lavorativi che strettamente personali, insomma ho voluto fare a meno di qualcuno e ho voluto trattenere altri appositamente, poi c'è stato un boom importante tramite il passaparola dei collaboratori che hanno portato altri collaboratori e do magari un'informazione importante anche per gli altri team manager, le entrate che abbiamo avuto all'ultimo, le più importanti che abbiamo, specialmente di nuove leve, giovani, neofiti, sono tutti figli di clienti, che nel momento in cui stai trattando la pratica, chiaramente il referral che ha il cliente è di altissimo livello, ti fa una grande pubblicità se la pratica si sta espletando bene, e i figli dei clienti che si sta laureando, ragazzi in gamba, li prendiamo, li formiamo da zero e stava andando molto bene, il boom è dovuto a questo motivo. Sono devoto a questo lavoro, io a 26 anni avevo un contratto a tempo indeterminato con una multinazionale americana, buono stipendio, 13esima, 14esima, avevo già un mutuo acceso e una figlia in arrivo, la prima, la più grande che avevo, adesso sto aspettando la terza che arriverà a distanza di 17 anni, quindi ho fatto un salto nel buio andando a lavorare insieme a un collaboratore che poi aveva lasciato il lavoro e adesso è tornato con me, e mi sono innamorato subito, un lavoro dove hai libertà di tempo, più fai, più guadagni, hai ringraziamento delle persone, ma bisogna essere generosi, io questo riprendo un po' quello che dice sempre Anzano, ma è un mio mood, insomma, devi essere felice che i ragazzi che hai facciano un percorso importante e diventano importanti, chiaramente un capo, un manager, un responsabile chiede solo un po' di gratitudine indietro che è la moneta per il quale poi ogni giorno con la pazienza ci armiamo e creiamo nuove risorse o diamo possibilità a quelle che abbiamo già in pancia, quindi la soddisfazione più grande è avere un ufficio grande che fa tanto, che è importante, ma soprattutto vedere ragazzi giovani al quale dai possibilità di avere un futuro veramente importante perché le risorse che cresciamo adesso vengono ristradate a livello anche di educazione finanziaria perché abbiamo collaboratori che si stanno laureando mentre lavorano perché li incentiviamo a continuare a fare il loro percorso di studi, li facciamo fare il fondo pensione da quando sono piccoli, li costruiamo un futuro anche a livello economico, imparare a fare riserva, a gestirsi nel tempo, quindi ci sarà possibilità per chi avrà la forza di resistere, di essere devoto a questo lavoro come lo sono io, di ritrovarsi magari a 27, 28, 30 anni ad avere già risparmi da parte, aver comprato una casa, aver delineato il futuro e la possibilità di avere un gruppo, anche loro, importantissimo è che in Eurohansa Roma 1 io ho già tre team leader, già tre ragazzi che hanno le proprie coordinatrici, che hanno il proprio back office, hanno le proprie risorse e sono tutti aggrappati, tutti collegati all'ufficio principale, noi pensiamo che l'unione faccia la forza, quindi veramente, ma gli do la possibilità di autogestirsi, di fare il loro progetto, ma quando c'è bisogno poi di fare un percorso più importante, ci ricolleghiamo tutti insieme. Il mio sogno è vedere tutti i collaboratori che ho, tutti quelli che con grande fatica stiamo crescendo, li voglio vedere realizzati, un po' come quello che si fa poi con i figli, no? Il desiderio è di arrivare a 100 collaboratori, cioè io mi piacerebbe che Eurohansa a un certo punto, e lo abbiamo fatto già, quindi questa è la fase 2.0, vorrei che Eurohansa a un certo punto diventasse come e quasi pesante a livello di un istituto bancario, oggi già siamo talmente importanti da dover essere ascoltati per forza, mi piacerebbe avere un gruppo talmente grande, in una società talmente grande, che basta fare solo il nome, no? Grazie a tutti!